Musica Musica Nel 1950 è una data particolare, forse unica, perché da pochi anni era terminato l'incubo della Seconda Guerra Mondiale, e ci fu un cambiamento totale, epico, sia in Europa, soprattutto in Italia, sotto tutti i profili, sia nella vita quotidiana, sia nelle abitudini, e soprattutto nel sistema di vita. Quello che io ricordo con molta chiarezza è il mutamento dei costumi, dei gusti. Per esempio, la musica fu un'evoluzione totale, perché abituati con le voci che le chiamavamo ritimate, di rabbagliati e dei telefoni bianchi, si sostituì una musica molto rumorosa, gioiosa, scalpitante, come chiamata jazz. Molti la definirono una musica di origine popolare, molto proletariale, insomma, non gradita inizialmente, ma ormai ci aveva dominata tutti. E come tale, noi giovanissimi eravamo abituati a dei giochi semplici, a passare le giornate spesso drammatiche ed altri momenti di noia infinita. Cercavamo di allietare le nostre giornate con dei giochi semplici, molto poveri, sotto il profilo dell'economicità, come per esempio la Nizza, che forse non tutti conoscono, che era una specie di oggetto allungato, che protendeva ai lati la possibilità di essere percorsa con un bastone e chi arrivava più lontano era il più abile. Poi c'era il famoso carettino, che era una tavolozza con montato alcuni cuscinetti di acciaio che testimoniavano la possibilità di avere un movimento, si faceva una rincorsa, si montava in velocità e naturalmente vinceva il primo che arrivava prima, insomma. Però la passione che sovrastava su tutti era il calcio, il ballo e, di conseguenza, la musica. Non era facile poter distinguere la possibilità di estendere i confini dei nostri rispettivi quartieri, perché i mezzi erano molto costosi e comunque affollatissimi e non permettevano lunghe distanze. Le nostre domeniche erano spesso incolori, ma molto allettanti, perché si diffondeva, si cominciava a diffondere una cinematografia per noi nuovissima, ma però affascinante. Insomma, c'era la famosa Hollywood che sfornava dei lunghi metraggi, dei film per noi insoliti, di un'intensità e di un interesse notevole. Per cui la domenica era proprio destinata alla visione di un primo film. Quello che Giorgio mi ha fatto ricordare in merito appunto a questi giochi è, per esempio, io mi ricordo che mio nonno mi costruì il monopattino. Il monopattino è fatto con i cuscinetti a sfera sotto, di legno, e che noi giocavamo, correvamo sul marciapiede, naturalmente sgridati dagli inquilini, perché è questo rumore continuo, sul marciapiede dei bambini che giocavano con questo monopattino. Un'altra cosa che mi viene in mente sempre degli anni primi, anni 50, è che per la Befana mi fu regalato, io ce l'avevo giusto, forse parlo del 51, credo così, mi fu regalato un pallone di cuoio, un pallone di cuoio che per la Befana era una cosa eccezionale. Con questo pallone di cuoio naturalmente non è che potevamo giocare sul marciapiede sotto casa, non avendo disponibilità di campi da gioco, una volta mi ricordo andammo a giocare in via del Campo Boario, in via del Campo Boario praticamente sotto le mura avureliane, che praticamente dividono il cimitero a Cattolico con via del Campo Boario. E mentre giocavamo a calcio su questa specie di prato, ma era un marciapiede abbandonato, insomma, in questa specie di prato improvvisamente dal nulla comparve in bicicletta un vigile, vestito di bianco, ancora lo ricordo, vestito di bianco, è sceso come un razzo dalla bicicletta e si è impostato sul pallone. Siamo rimasti tutti come credini. Gli abbiamo detto, ma non sapevamo dove andare a giocare, ma che è lui naturalmente integerrimo, ci ha sequestrato il pallone. Per rientrare in possesso di questo pallone, con mio zio, il fratello di mia madre, che abitavamo, allora abitavamo tutti insieme, eravamo 8-10 persone in casa, quindi più nuclei familiari messi insieme, siamo andati in circoscrizione, allora si chiamava circoscrizione, che si trovava in via, oddio, dove c'era la scuola dei Amicis, in via Galvani, a Testaccio. Andammo lì e c'era questo comandante lì dei vigili, al quale abbiamo fatto presente la cosa, perché questo poi si era preso il pallone, ma a me non è che mi avesse rilasciato qualcosa. Insomma, mi ricordo che mio zio riuscì a recuperare questo pallone pagando una multa e mi è rimasto impresso che se uno degli spicchi del pallone questo vigile aveva segnato tutto, sequestrato in via del campo Boario, alle ore, totte, del giorno, totte. Per cui questa è una cosa che a me è rimasta impressa, per quanto riguarda i giochi. Per quanto riguarda sempre gli anni 50, mi ricordo l'avvento della televisione nel 54. E questo mi ricorda che, naturalmente, noi non avevamo il televisore in casa e c'era in via Ossiense un negozio di radio che si chiamava Solaino. Questo negozio Solaino, naturalmente, vendeva televisori, e che ha fatto, ne ha messo, ne metteva uno in vetrina, acceso, in modo che, per invitare la gente poi a acquistarlo. Ma poi, ripeto, noi non potevamo permettersi di acquistare questo. Io, quando avevo un po' di tempo libero, che ero solo, mi mettevo il pomeriggio lì davanti e mi guardavo la televisione in vetrina. Altro particolare, che mi ricordo, che nei primi anni 50 ci fu l'Ascia Ura Doppia. Questo l'Ascia Ura Doppia fece uno scalpore tale che ormai era diventato un evento, addirittura, mi ricordo, che nei cinema interrompevano il film per far vedere. E allora avevano installato questi televisori, a quell'ora si fermava la proiezione del film e venivano accesi i televisori per permettere di vedere l'Ascia Ura Doppia. Io mi ricordo che mia madre, per vedere l'Ascia Ura Doppia, andavamo in via dei magazzini generali, che c'era una pizzeria, trattoria, da Italia, si chiamava Italia questa signora, che era piuttosto giovane, forse era quarantina d'anni, quarantacipari, ma una donnona, un'altra. E sotto c'aveva questa sala, e mangiavamo la pizza e vedevamo l'Ascia Ura Doppia là. Queste sono le cose principali che io ricordo, in questi primi anni cinquanta. Ecco, forse un'altra cosa che mi viene in mente è che c'avevo mio zio, che era allora, no, forse mio nonno ancora, no, mio zio, mio nonno purtroppo era già andato, che era il segretario della Sessione Ura Doppia del Partito Socialista Italiano. Una cosa che mi è rimasta impressa è che allora, quando era il periodo elettorale, la polizia metteva una gente di guardia davanti alle sezioni, poiché noi questa sezione ce l'avevamo all'interno del cortile, del palazzo dove abitavamo, c'era sto poliziotto fisso lì fuori, giorno e notte, per il periodo elettorale. E noi ragazzini, diciamo, 12, 13, 14 anni, con le biciclette andavamo, nel momento dello scrutinio, andavamo nei seggi, che c'erano i rappresentanti di vista, e ci facevamo dare le proiezioni della parte votata, diciamo, e le riportavamo insieme dove venivano registrati per vedere l'andamento delle elezioni. Ecco, queste sono cose che ricordo io degli anni 50. Insomma, la giornata tipo, per noi, era, la scuola naturalmente era il primo posto, perché era un obbligo, andare a scuola e fare seghe, era come, se si faceva seghe a scuola, era come se tu prendessi la droga, stessa cosa, la punizione era esemplare, ma dopo della scuola, lo svago era, era, diciamo, quasi obbligatorio, perché ti permetteva di, di interrompere questa severa, perché la scuola era abbastanza severa, talvolta anche un po' crudele, perché i momenti più belli venivano soffocati dal dovere di dover studiare, e spesso si doveva ricorrere a qualcuno più grande che ti poteva aiutare e collaborare a risolvere alcuni problemi. Tra l'altro, io stranamente avevo un debole per il latino e paghimi, a due cose completamente opposte. Per quanto riguarda la Domenica, invece, era quasi proprio proverbiale. La prima cinematografica, del solito, era riservata alla cinematografia americana, che era la maggiore produttrice dei film molto belli, dove specialmente, ricordo dei grandi produttori, come se fosse il De Mille, come Gilles de Folies, tutti i musicoli interessantissimi, che poi canticchiavamo i motivi che per noi erano i più belli, mai sentiti, orchestra famose. Insomma, era quasi un'abitudine ormai consolidata, tant'è vero che la mattina già si sentivamo emozionati all'idea che la Domenica offriva questa opportunità. Come si concludeva? All'uscita dal cinema, mi ricordo, percorrevamo via del corso, perché gli cinema erano tutti accentrati all'interno della nostra città e si guadagnava una, mi ricordo, una stradina dove c'era una specie di, oggi si chiamerebbe snack bar dove c'era una specie di reggibile che apriva la pancia e distribuiva i supplì, era la meraviglia dell'epoca, insomma. Oppure si si regava a fare colazione, qualche volta addirittura in locali di Russo come Donaia e Via Veneto. Insomma, si concludeva con molta con molta soddisfazione anche nelle nostre modeste condizioni. Poi nel crescere anche mentalmente c'era questa propensione a organizzarsi e a fare delle feste da ballo inizialmente anche nel proprio domicilio però qualche volta siccome fioriva questa industria del ballo si erano aperte parecchie sale da ballo che noi frequentavamo molto volentieri. Poi c'è fu il periodo squallido io ritengo squallido perché raramente io penso due o tre volte non di più perché era veramente squallido erano gli ultimi baggiti di quel fenomeno delle case chiuse e noi normalmente sentivamo sempre parlarne e qualche volta eravamo tentati fino a che abbiamo appunto diciamo subito perché io direi quasi subito il quadro di vedere queste donne di scinti in quelle condizioni che ammiccavano francamente non era una grande nonostante che potevi in qualche modo poter dimostrare di essere un uomo anzitempo però non era motivo di insomma personalmente erano molto sgradevoli poi che altro c'era di bello c'era una certa propensione al coro agli festeggiamenti il compleanno la prima comunione ogni festa era un buon motivo per stare tutti insieme e fare dei cori che noi prediligevamo con la nostra parrocchia perché c'erano alcuni amici di cui posso ricordare anche il nome i ciarlantini che erano frequentatori della parrocchia ma erano molto amanti della montagna per cui tutti i motivi più cerebri dei montanari si riuniamo e poi non so perché ma qualcuno disse che ero intonato c'era una bella voce insomma ero stato anche alla scuola a Pio IX che erano le prime versioni della musica sagra e io più che altro approfittavo perché essendo parte del coro potevo saltare la messa di tutti i giorni quindi era una scappatoia ma non avevo tanta fantasia però tutti mi cercano io aderivo per questo motivo secondo me la parte più interessante di quel periodo è stata l'enorme differenza tra gli anni precedenti che si può dire che era un paese proprio veramente alla deriva principalmente si ritega di espedienti una povertà assoluta a un paese che si stava con il vento sotto gli occhi in una maniera proprio come si può definire dinamica di un dinamismo incredibile giorgio in merito a quello che stavi dicendo tu dei cinema mi è venuto in mente mi è fatto venire in mente un episodio io avevo una zia che viveva negli Stati Uniti venne in Italia venne a Roma io ero piccolo diciamo e mi regalò un po' di monetine di cento i famosi cento americani che aveva spicci diciamo e con un mio amico mi ricordo Dario che abitava lì dove abito io decidemmo di andare al cinema Tirreno che esisteva in via per il rio Matteucci che era un po' come se dice a Roma un pidocchietto sto cinema decidemmo di andare a vedere un film però io non avevo soldi e lui non aveva soldi allora che è successo che a me è venuto in mente che avevo queste monetine si sente americani allora che abbiamo fatto con questi cento americani in via Ossienze angolo via dei magazzini generali c'era la banca d'America e d'Italia di conseguenza io ho pensato banca d'America vado là me li cambiano mi danno i soldi in lire in modo che così possiamo andare al cinema andammo là c'era lo sportellista che ci vide e ci chiese che cosa dovete fare voi e io gli ho detto guardi io ho questa manciatina di monetine dei cento americani che mi ha lasciato mia zia prima di ripartire e volevo cambiarli perché con lui volevamo ci servivano questi soldini e lui ha detto ma questi non si possono cambiare qui può cambiare i dollari ma i dollari non i cento i monetine e mi ha detto ma che c'è dove dovete fare voi queste monetine no dico dato che qui c'è a Via Perlino Matteucci c'è il cinema Tirreno che fanno adesso non ricordo il titolo del film ma è un titolo d'avventura sicuramente western che ci poteva piacere e che quindi però non avevamo i soldi perché ci avremmo avuto 10 anni 11 anni così allora questo ha detto ci guardò e disse vabbè fate una cosa si mise la mano in tasca ci ha detto lui non mi ricordo se c'è cento lire qualcosa del genere e ci ha detto ragazzi andatevene al cinema e così siamo andati al cinema mi ha ridato le monetine che io avevo messo lì sul banco della cassa e siamo andati al cinema con una risata generale di tutti gli impiegati siamo andati al cinema a vedere questo film ecco questo è un episodio che mi ha fatto venire in mente parlando dei film del cinema italiano quindi del periodo che avevamo qui in Italia con i film americani e quindi ecco è interessante questa cosa come pure per esempio io mi ricordo che noi tu hai portato l'esempio dell'andare a ballare in casa allora si faceva chi portava le passarelle chi portava la bottiglietta e a me è rimasto presto un particolare che io avevo un amico che abitava a Testaccio in una di quelle case che hanno quei terrazzi grandi e andavamo era in primavera è stata andavamo a ballare lì e credo di essere quasi certo non lo dico al 100% perché non ce l'ho stessa visione però e poiché era del mio anno di nascita quindi eravamo coetani credo che a ballare con noi lì veniva Gabriella Ferri perché Gabriella Ferri abitava nella piazza dei giardini lì a Testaccio e quindi era e poiché era del 42 come me era mia coetanea e stavamo praticamente ma neanche 100 metri dalla sua casa probabilmente lei faceva parte di questo gruppo di ragazzi di ragazzini di Testaccio che noi insieme che venivamo dallo Stiense ci riunivamo e ballavamo su sto terrazzo c'era il famoso cramofano e ballavamo lì sul terrazzo e quindi quest'altro episodio che mi hai fatto venire in mente tu mi hai fatto venire in mente invece tu il Tirreno io ho sentito proprio l'inaugurazione ah quel famoso film Ombre Rosso degli indiani che poi insomma si è rivelata una mattanza da parte poi invece successivamente sempre al Tirreno e fu una cosa drammatica perché la serie dell'Alcazar era un film sulla resistenza spagnola e in quel tempo i spagnoli diciamo i partiti della sinistra insomma i russi erano considerati come dei banditi i sovversiti la parola sovversiti e la parte buona era quel fio della manca di Franco naturalmente era fu un momento veramente eclatante perché finalmente un cinema sotto casa è diventato ormai era quasi alle tre del pomeriggio era pieno perché era affollata erano talmente pochi gli svaghi le occasioni e poi era pure a buon mercato mi ricordo insomma per quanto riguarda invece la cosa che ho notato da sempre l'ho sofferta sta cosa sta città sta sempre buia pure adesso cioè io la cosa che ho notato in questa città secondo me che è mancata è la luce se non fosse per il sole del giorno sarebbe proprio triste io non so se era dovuta adesso non voglio sta a fare una dissertazione però secondo me era molto importante avere una buona luce proprio per dare dato che la città è bella lo meritava ecco e questo l'ho sempre pensato dico ma sta città tanto decantata caputti di un mondo e poi sta lì con una specie di luci che sembrano tanto è vero che i lampadini li chiamano i candele diceva quante candele mica dicero da quanti da quante candele mi ricordo mio padre la luce cioè c'era un'economicità spaventosa insomma che è durata anche dopo gli anni 50 poi fortunatamente anche se poi stiamo ancora a pagare decine sta il suo piano Marshall che insomma trascuro sulle successive Giorgio ti ricordi mi hai fatto venire in mente una cosa adesso che qui in via del commercio c'era la trattoria di Cavicchia Cavicchia c'era Pietro che era un mio amico che era il mio coetaneo il mio figlio diciamo siamo cresciuti insieme e mi hai fatto venire in mente una cosa particolare io mi ricordo che allora non c'erano i frigoriferi per lo meno non c'erano c'era una specie dei mobili dentro a ste trattorie e mi ricordo che veniva un carro un carro col cavallo che aveva questo carro dietro grande e portava le colonne di ghiaccio e per mantenerle perché naturalmente erano coperte da sacchi di juta che le tenevano coperte per mantenerle fredde cioè non farle sciogliere praticamente e questa è una cosa che mi è puramente sempre dell'epoca degli anni 50 e un'altra cosa era che il vino allora io lo portavo proprio con la botticella veniva questo ci aveva questi grossi barili sempre a cavallo e ci aveva e portava il vino e mi ricordo perché io ce l'avevo sotto le fine perché io lo vedevo quando venivano e ci metteva i tavoli su via del commercio quindi ce l'avevamo l'estate tutti questi anziani di allora che se facevano il quartino la famosa il famoso quartino che aveva la palletta che era la cazzosa te la ricordi la cazzosa che aveva la pallina sopra per coprire diciamo e quindi mi porti un quartino e una palletta la chiamavano era la cazzosa che c'era questa pallina per esempio tu hai nominato via del commercio via del commercio praticamente è come se se la vissi davanti in questo momento perché si partiva dalla dove sta la docana verso di noi verso via del commercio verso la via ostiense c'era una stalla dove abitualmente il figlio ci frequentava perché loro lo chiamavano lo stagliere perché insomma vestiva in moto molto approssimato poi c'era questa trattoria che dici tu ma soprattutto c'erano delle delle balle di fieno lungo tutto l'arco della piazza del gazzone tutte balle di fieno insomma era proprio se vedi la divisione netta tra la città interna tant'è vero che noi dicevamo dove vai a Roma fuori porta era proprio la periferia della città e altra cosa che ricordo con molta curiosità è che io siccome sono stato precoce nel ballo anche perché mia sorella era appassionata di musica e mi ho imparato presto a ballare proprio grazie alla sua collaborazione però io non so se era per economia o perché si usava così ma io ancora a vent'anni portavo i cartoncini corti e poi dal freddo che faceva un freddo e quelli alla zuava te li ricordi? quelli alla zuava con le vassi no vabbè ma corti addirittura a vent'anni insomma con la stoffa americana che era tutto uguale color beige contrasta molto con la pericolità che quando con mia sorella che era più grande di me hanno dato le prime feste post bellico era diventata una sala da ballo dopo l'oro del gas e io ero un po' un'escezione perché insomma stiamo negli anni 50 a vent'anni ma chi è che insomma il ballo era una cosa cioè si faceva in casa ma non pubblicamente no? l'esibizione e non mi piace entrare testi te lo ricordi? i testi perlomeno abitava la parte dove stava Scala G al primo piano lui era un vecchio dependente del gas che poi appena andato in pensione gli hanno dato questa possibilità di gestire il dopo lavoro non mi piace entrare perché avevo i cartoni corti la mentalità io mi ricordo il dopo lavoro del gas che c'era un dipendente un operaio del gas che quando era vicino al periodo estivo diciamo nel giardino interno dove c'era il dopo lavoro faceva montava il ring montava alle tribune perché d'estate facevano gli incontri di pugilato all'aperto e la romana gas aveva addirittura una palestra dove si allenavano pugili e non a caso io mi ricordo che allora era un direttante da quella palestra venne fuori Rinaldi che poi era un peso massimo che diventò professionista e addirittura andette a combattere del titolo mondiale negli Stati Uniti che prese una cosa di botte e finisce mai però intanto era un pugil abbastanza e mi ricordo che era di Anzio e su questa cosa vorrei aprire una piccola parentesi io da giovane da ragazzo lavoravo alla TED alla SIP ai telefoni e stavo proprio all'interurbana e facevo proprio le zone esterne alla città di Roma e mi ricordo che un giorno stavamo lavorando riparando un guasto telefonico ad Anzio e lui era di Anzio e mi ricordo che c'era sto bar sotto con tavoli e io montai la scala e salì su intorno ai 12-15 metri d'altezza per andare a sostituire sto cavo che si era interrotto guastato e lui che da buon pugile che diventamente era diventato mezzo sonato salzò prese la scala sotto e la vibrò violentemente e io mi attaccai alla scala perché pensavo di stare a precipitare dalla scala quando mi accorsi che c'era questo tizio che poi dopo ho visto che era lui che stava a giocare con la scala mentre io ero sopra istintivamente io avevo la borsa con i ferri ho preso il martello e io l'ho tirato fortuna che non l'ho colpito quando sono scesi ho detto tu sei Rinaldi sì ecco e si vede che hai preso tante botte in vita tua perché sei talmente cretino che non ci sarebbe da aggiungere altro insomma ecco questo particolare mi è venuto in mente ricordo con molta chiarezza quando appunto venne Beneveno Gigli che cantò e ero incerto se era Vento o Mamma anche perché le canzoni erano contemporanee scusa se ti interrompo ma era il film che era intitolato Mamma proprio perché lui in quel periodo cantava quella canzone era famosa in tutto il mondo sta canzone Mamma cantata da Vento e ancora si disette mi ha colpito perché non ho mai visto tanta gente proprio piena e fu una serata commovente molto bella quello che volevo dire poco anzi fu una parentesi molto felice a proposito del calcio perché furono le prime le prime gare quasi ufficiali io non ricordo bene chi era l'organizzatore comunque fu svolto in parocchia ma era molto frequentata io mi ricordo però i nomi intanto l'indomabile io facevo parte dell'indomabile Ardimentosa poi c'era una che non me lo ricordo ma l'altra invece era chiamata Gilda in omaggio a Rita Eivort che era il soprannome era Gilda era una vamp no come dell'epoca scusa se ti interrompo un po' se no andiamo un po' oltre rientrò un attimino nel in Beniamino Gigli quando girò il film mamma qui da noi nel palazzo che dove sono stai girando tantissimi film qua mi è rimasto impresso questo episodio che noi il pomeriggio eravamo nel cortile grande perché c'erano tutte le maestranze le apparecchiature e noi stavamo lì che curiosavamo giocavamo perché eravamo ragazzini e lui uscì fuori e vide questa marmaglia dei bambini del palazzo che stavano lì a giocare si fermò ci chiamò diciamo in quel momento passava su via del commercio non so se ti ricordi quella specie di trabiccoli di tricicli bicicletta che vendevano i gelati che vedeva il gelato e allora chiamò un addetto lì della produzione un addetto della produzione e gli disse di comprare il gelato a tutti questi ragazzini e mi è rimasto impresso questo piccolo episodio che questo andò là e ci portò là e tutti quanti ci ho friggelato e questo era mi è rimasto impresso di quella giornata fatidica che poi la sera si concluse col concerto che lui fece per diciamo così per ringraziare dei disagi che aveva creato al palazzo all'altro patiglione perché c'era tutta quest'area grande fu montato un piccolo palco così d'emergenza e lui cantò appunto ma si sparse la voce che c'era Bignomino Gigli che stava cantando qui e venne gente dalla Carbatella da Tessaccio insomma si era talmente riempito che sembrava stato un stadio un avvenimento ecco questa è una piccola parentesi che ho voluto aprire in merito alla questa giornata più eccezionale e tu stavi parlando appunto del calcio però io mi ricordo che pure sto vento non è che ne ha cantato tutte e due ma lui ne ha cantato più di una io mi ricordo mamma perché poi era legato al titolo del film lo sai perché te lo dico perché poi Romulo che è partito Boraccio mio fratello è partito a giugno il giorno dopo scoppiò la guerra sul fronte greca stava proprio si è ripetuto si è ripetuto ma è un fatto ecco a proposito di mio fratello si fermò qui guardò e io stavo a giocare allora tutti mi hanno guardato c'è il signore in testa chi è? ho guardato un divisa era mio fratello la corsa abbracciato capirai fu commuovente e quanto tempo era che non lo vedevi? era un po' prima perché 45 no no che lui era partito e che non vi vedevate da quanto non vi vedevate? lui è del era dicembre del 19 sì sì però ho capito lui era in guerra quindi certo e insomma degli episodi di questo genere molti c'erano commuventi poi ripeto c'è fu quelle a me pensava marginale ma a me mi è rimasto un presso sti porassi che lavavano nei panni e poi cantavano e io ogni tanto gli portavo stava che era era chiamata di scia non era chiamata la caustica la bolliva in cantina dove facevano il bugato ti ricordi? e e sentivo queste donne che facevano mamma non vuole papà nemmeno come faremo e mi è rimasta presto questa questa filastrocca poi col tempo parlando sentendo sempre tanta musica alla fine mi si è accorto che faceva parte di un movimento di Tchaikovsky cioè era proprio identica come intonazione è stata ripresa da lì era tutta una scoperta era tutta una scoperta e poi c'è fu e c'è fu l'anno 6 a quell'età mi fai pure una forma un po' di fanatismo quando tu partecipi a una qualcosa di eccezionale io mi pare che era la seconda volta che andavo a teatro andavo forse no facevo la corte quando io facevo il moccolo il portamoccolo ma mollavano i futuri sposi delle mie sorelle ma facevo il terzo incomodo se usava insomma il terzo incomodo per la prima volta che si sono andati in forma autonoma eravamo in un palchetto in 15 perché arrivava Duke Ellington fanati come eravamo mi ricordo ancora qual è quel cinema che sta a Piazza Colonna di fianco dietro Piazza Colonna Capranichetta Capranica no vabbè comunque famoso adesso ho me in mente e mi ricordo che tutti siamo andati tutti cioè per noi era un evento all'epoca interessante è stato un periodo molto cioè sentivi sulla pelle un cambiamento totale che era in contrasto con quelli della generazione precedente perché e Giorgio ti ricordi che tornando alla Romana Cass quando era intorno al primo maggio che se faceva una festa all'Iene il famoso albero della cuccagna mettevano sto palo dritto che poi veniva tutto l'albero della cuccagna che veniva tutto preso con tutto il grasso intorno e sopra c'era questo mi ricordo questo cerchio alla fine del palo dove venivano attaccati prosciutti salami caci cavallo e chi riusciva a salire su prendeva quello che riusciva a prendere diventava di proprietà praticamente ma salire su con un palo tutto pieno di grasso intorno era talmente difficile perché scivolavano naturalmente e se poi diventavano slerci pieni di grasso perché era tutto grasso quello delle macchine al centro del grasso e per cui mettevano questo a cuccagna poi sempre al gas mi ricordo per esempio a carnevale che c'era il famoso Bologna si chiamava sindacalista che era irresponsabile e sopra al primo piano dove attualmente c'è l'Aggi l'agenzia giornalistica lì c'era una sala grandissima e lì si ballava o per il carnevale o per il primo maggio insomma si ballava per cui ecco queste feste si ripetevano e un altro episodio scusa se ti prendo un po' di tempo un altro episodio che mi rimasto impresso sempre negli anni 50 che all'interno della palestra che c'era lì nel dopolavoro della romana casse venne girato il film Nasere Maggio che era interpretato da Claudio Villa mi è rimasto impresso Claudio Villa che girava il film e c'era la moglie la prima moglie diciamo che era una doppia dice che era in stato interessante aveva un pancione che stava lì che aspettava che finisse per andare via che poi c'era quel figlio che è nato da questo matrimonio che ora ci avrà 60 anni perché insomma è un figlio grande però mi ricordo questo particolare che ci girarono questo film con Claudio Villa che lui faceva il pugile ma prendeva un sacco di botte cioè provò a far fuggire sul film ma tutti gli appenavano praticamente ecco questo è un altro episodio che mi ricordo è relativo alla romana casse sì ma era importante la romana casse all'epoca io mi ricordo che c'erano delle feste ma anche le prime comunioni no? le prime comunioni il primo maggio le squaglie di soccolata il primo maggio io ricordo questo particolare Giorgio che il primo maggio dalla chiesetta che abbiamo su Via del Commercio che c'era questo portoncino che adesso hanno urato non c'è più è stato chiuso perché hanno aperto quell'appresso lì intorno alle nove mesi suonava la campanella che stava su quella specie di campanile che stava sopra la chiesetta si apriva questo portone e usciva questo fratone mi ricordo un frato cappuccino grosso con un panzone con questo crocifisso in mano con tutti questi bambini dietro che erano i figli dei dipendenti della romana casse perché i genitori aspettavano già nella chiesa di San Benedetto in via del gazometro e i colonnati cantando si regavano a prendere la prima comunione nella chiesa parocchiale di San Benedetto diciamo questo è un altro episodio legato legato appunto alla romana casse diciamo ma Bologna era il classico un po' il grillo dell'epoca eh sì perché ogni volta c'era da sopra arrivava la sala adesso lo portavano a bottega sì sì ma io non capisco una cosa che c'entra lui usciva mi ricordo con le braccia così libero ma che c'entra con Mutugno libero ma tu tu ricordi sul fatto di libero tu ricordi lui usciva con la camionetta libero e prendeva per in giro lui si prendeva il lustro di piangire la polizia capito se metteva in piedi quelli lo tiravano su lui libero fuori del gaz lui ecco là hanno fatto tutte le volte che c'era lo sopra Bologna andava in galera e lui diceva libero ma è un caso perché c'entra Modugno Modugno è proprio dopo no non lo so voglio dire ma io non mi ricordo il particolare Bologna era gli anni 50 anni 50 pure anni 60 però e Modugno perché io mi ricordo nel 60 Modugno è più recente apri questa piccola parente che non c'entra niente con gli anni 60 però lui intonava libero come una canzone però te lo ricordi quando c'è fu quella grossa manifestazione alla porta San Paolo che c'erano addirittura dei feriti perché c'erano dei scontri che poi li portavano a testa c'era gente che gli tirava però questo rientra un po' negli anni 60 e era il periodo che la Romana Cassa stava in sciopero per cui a porta San Paolo intervennero pure i cassisti e capeggiati sempre da Sto Bologna che era un sindacalista da CGL il più drammatico è stato durato una settimana ecco fu fu epico tutti i cassisti affacciati in alto dove sta la palazzina adesso dove sta l'agenzia quell'agenzia AG sì 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 so affacciati e col canestro la gente gli portava da mangiare il canestro gli dava il cibo una settimana reclusi là occupata la fabbrica e fu drammatico e mi ricordo che il il massimo dirigente era un certo Rosati così napoletano e fu drammatico ti ricordi che fecero io mi ricordo che fecero venire da Napoli degli operai per portarli qui ai forni perché producevano il gas probabilmente col carbon coke per portarli ai forni e vennero gli operai da Napoli ma mi è rimasto impresso un particolare che questi non erano molto pratici di quello che succedeva nei forni e questi dai che mandavano dentro e ogni tanto usciva un'ambulanza che ne portava uno all'ospedale perché o c'erano esplosioni o coba e se si bruciano questo parliamo del 60 è successo nel 60 di tornando un attimo a via del commercio ma tu mi ricordi a via stavano a via del porto dove sta adesso il palazzo occupato dell'aeronautica c'era l'aeronautica c'erano i cavalli di taburetta no quello prima non erano gli anni 50 perché io non mi ricordo ancora negli anni 50 ancora c'era c'era già l'aeronautica infatti io taburetta non l'ho visto per cui è 40 forse i primi anni 40 perché io mi ricordo sempre l'aeronautica di Solarino mi hai fatto ricordare Solarino Solarino io ero ero stavo sempre incantato lì con la radio no abbiamo compreso da lui si chiama Crossley americano era a radio a valvole da lì sentivamo poi no e io invece ci vedevo ci vedevo la televisione in vetrina cioè la televisione la mancia la mancia di Natale e io e Fernando tuo cugino sì eravamo molto lui era molto influenzato da me e lui non comprava un disco se prima non mi consultava poi mi diceva ti piace io qualche volta dicevo vabbè insomma c'era di meglio però per non mortificarlo e mi ricordo che hai tre cannelle c'erano tutti zitelli prima si chiamano zitelli ragazze nubili erano nubili che si mettere le mani nei capelli perché loro all'inizio erano molto gentili molto però siccome io lo pretendevo sai all'epoca c'era la cuffia per sentire io non mi accontentavo di un'edizione normale tra i tre cannelle che era ricordi era ricordi alle tre cannelle alati si chiamava alla dopo invece c'era subentrò ricordi io ricordo ricordi ogni volta devi mettere le mani nei capelli perché gli facevano di impazzire per comprare solo due dischi ci passavano mezza giornata lì non c'era un altro e quella cominciava a dare segni di impazienza io però io io volevo spendere bene i miei soldi era l'unico sistema proprio per sentire più musica insomma non è che una casa le mette in croce la mia mancia andava sempre in dischi altri episodi che io ricordo degli anni 50 per esempio mi ricordo che c'erano la mattina presto capitava molto spesso che a via del commercio dove c'è la tocana giù in fondo c'era sempre una fila di camion che portavano il carbon coke e stavano in fila no al contrario scusa te interrompo prima erano i cavalli poi stavano sostituiti dai camion eh siccome il gas era gas etilene non era come adesso il metano certo che era molto più redditizio però c'era dei problemi certo e quando era sfruttato rimaneva il coke tant'è vero che la romana gas si chiamava così prima angolo romana poi è diventato romana gas e poi idel gas e poi adesso uscivano questi camion uscivano questi camion che poi parcheggiavano là questi camion io pensavo che entrassero non lo portavano lo rilevavano e lo vendivano ai piccoli perché era molto caloroso ai carbonai era da sfruttare ai carbonai e quindi il gas recuperava tant'è vero che i paraculi lo danno per regale ai gascisti perché è stufa all'epoca per chi ci aveva erano tutte palle e stufa no io mi ricordo che forse lì parliamo forse pure dei anni 40 forse però io mi ricordo che a casa mia c'era un manufatto in muratura che aveva tre sportelli davanti di metallo che si chiudeva che ci si metteva il carbone dentro e che con l'avvento c'era l'avvento la fatta di piume te la ricordo perché i fornelli mica c'era il gas era molto caldo pure per cucinare erano i fornelli erano diciamo scaldati i fornelli dal carbone sotto e si comprava il carbone dal carbonaio che stava in via Caboto tu lo ricordi il carbonaio in via Caboto con l'occhio storto bravo con l'occhio storto di fronte si di fronte alla finestra tua io per esempio anni 50 mi ricordo calzolaio Ditone Ditone io ci andavo a far isolare le scarpe e Ditone lavorava come bidello in una scuola e lo sai un particolare che mi è rimasto impresso di Ditone che normalmente ci andavo la domenica mattina perché lui non lavorava la domenica e lui si metteva vicino alla finestra c'era questo sgabbello con questo banchetto e lì aggiustava io andavo a portarmi le scarpe perché mi ci metteva i ferretti perché mica si risolavano tutti i giorni i ferretti che quando sembravano il tip tap quando camminavi con questi ferretti sotto avanti e dietro sai che mi è rimasto impresso che lui la domenica mattina si metteva lì a lavorare ma non era vestito e stava in pigiama come starebbe chiunque di noi stava in camicia da notte perché poi era pure grosso tu ricordi c'era un bel pancione e lui si metteva lì e io mi sembrava strano questo fatto ma questo che c'era la camicia da notte che per me era una cosa da donna che la portava nelle donne invece questo che era calabrese io mi ricordo era calabrese di donne mio padre addirittura risolava le scarpe a tutti e vedi faceva arcar solaio ma questo si faceva aranciato questo si faceva pagare però io mi ricordo che a noi invece di lavare le scarpe ma pagavano lui lo faceva per casa per noi no 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 io andavo da di donne perché mia madre mi ci mandava e mi faceva comunque gli anni 50 passeranno alla storia per noi da ragazzini siamo diventati adulti adulti precoci perché guarda che se tu ci pensi bene quel passaggio tra il fine guerra il salto non è stato solo di abitudine è stato proprio di maturità perché tu all'improvviso ti sei trovato responsabile di tutto cioè tu se prima stavi sotto casa non era più possibile dovevi per forza uscire perché c'era troppo da fare e bombine esplose io mi ricordo perfino in Calabria io a 20 anni sono andato in Calabria nel 50 13 ore di viaggio a parte che oggi sarà più o meno non è che ci allontaniamo però i vacuni sono un po' meno c'è la famosa Salerno Reggio Calabria e mi ricordo che la famiglia stava bene all'epoca hanno affittato una casa a Gambari è come il terminillo qua Gambari lo conosco bene Gambari dove c'era il monumento a Garibaldi a Gambari dove è stato ferito Garibaldi a una gamba e io dovrei avere pure qualche fotografia mi trovai mi trovai in un posto favoloso a 20 anni insomma mi ricordo che se avvicinò il cognato mi disse come che eravamo già abituati insomma quei ragazzi allora io mi fermai con una calabrese lungo la strada allora mi hanno detto sai mi ha consigliato di vabbè ma del giorno cioè mi ha consigliato di evitare questi semplici approcci poi erano talmente ripeto a 20 anni tutto sembra strano il pulma tu salivi perché ero il figlio della Roma ero il fratello della romanina ogni volta che montavo sul pulma era gratis da barbiere gratis non pagavo più e un giorno era tutto pagato questo succedeva pure a me quando andavo a calabrese poi un'altra cosa che rimase impressa è che quando mi vede lo tuffa in acqua a parte che era fredda arrabbiata e perché era molto profonda però era talmente bello il mare e faceva una sbracciata poche merri ti ricordi che era molto profonda l'acqua poche merri lo Ionio mi hanno detto tutti preoccupati dico ma come un paese di mare tutto mare più bello che è e questo insomma capito questo atteggiamento di rapporto città paese è stato quasi scioccante e mi ricordo che lungo il viaggio c'erano delle fermate era bellissima montava gente col costume tradizionale per prenderla ancora sì ancora sì 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 ma infatti per me è una scoperta è come se fosse stato in America perché è la prima volta che andavo così lontano fuori le case e beh al massimo arriviamo a Ostia ma poi con viaggio del genere era molto molto te dico solo voglio dire solo un particolare mi ha fatto un viaggio così te dico solo un particolare che però si riferisce al 50 ma agli anni 40 io ci avrei avuto 5-6 anni e mia zia quella che ho detto prima che poi stava in America stava a Livorno perché il marito di mia zia che era americano Ervin si chiama Ervin May era un giornalista e stava al tombolo di a Livorno c'era una costa con pressorio dove c'erano i soldati americani che credo che tra l'altro ci siano pure ancora credo che ci siano anche adesso e mi ricordo che con mia madre che lavorava quando prese le ferie andammo a passarle da lei che però non abitava a Livorno ma stava vicino Pisa in una villetta c'erano questi due ufficiali uno al piano di sotto uno al piano di sopra e mi ricordo che il viaggio fu fatto su un treno di quelli ancora con la locomotiva a carbone praticamente e io ci avevo avuto 5-6 anni che ci abbiamo messo praticamente tutta una nottata mi sembra qualcosa del genere ero piccolino perché ci avevo avuto 5-6 anni per fame c'erano sopra i portati dove si mettevano le valigie che erano fatti a rete a retina di Iuta di Spago diciamo un signore io e mia madre che ha fatto ha visto che mi ero addormentata appoggiata a mia madre ma ha preso e mi ha infilato là sopra quindi ho fatto un viaggio dove si mettevano i pacchi e le valigie là sopra però dato che era estate praticamente c'erano i finestrini erano tutti aperti perché poi era pieno strapieno questo treno infatti mia madre ha fatto tutto il viaggio in piedi per dirte e è durato tutta la nottata quando siamo arrivati che mi hanno tirato giù da là scoppiarono tutti a ridere ma io ero piccolo ma che ridono questi allora mi sono guardato mamma e gli dice mamma ma perché mi guardano e ridono tutti perché noi ho detto ma quando arriviamo lì al tomolo per un bambino americano ero tutto nero nero perché tutto il fumo del treno con i finestrini aperti colcato io per aria per cui trovavo all'altezza ero diventato tutto nero ecco questo è un particolare è altro episodio lì al tombolo che mi ricordo che c'era il circo ufficiali americani che fuori c'era la sentinella e con mia zia e con mio zio anche solo con mia zia e mia madre ci andavamo tante volte il pomeriggio e lì scoprì per la prima volta c'era al centro di questo grande salone a parte c'era la musica c'era un complesso che suonava Brasile mi è rimasta impressa questa canzone qua e c'erano tutti questi ufficiali che stavano seduti ai tavoli bevevano whisky beer c'era questa fontana luminosa al centro che io mi avvicinai a guardarla perché vedevo queste cose che volavano e per la prima volta scopri sai che cosa i pop corne erano i pop corne che svolazzavano c'era il vento l'aria sotto sembrava una fontana che svolazzava e quindi mi è rimasto appresso il fatto di vedere questa cosa e io la prima volta che l'ho visto l'ho visto dagli americani e fuori c'era sempre la sentinella c'era la carritta fuori al circolo ufficiale e io mi divertivo che facevo entravo e uscivo e questo aveva capito che ero un bambino per cui giocavo ogni volta che entravo questo boom batteva sulla cosa e si metteva su attenti allora io entravo e si e questo seguitavo a farmi questo lavoro ecco una piccola parentesi che avevo avuto sui treni ecco io prima non so perché avevo trovato la Calabria c'era un motivo perché in quell'occasione ti dico è come fosse stato il terminillo tra i aie si chiamavano era l'Aspromonte Gambarie è sull'Aspromonte io ci sono stato a Gambarie allora mi sono avventurato quei ragazzini che erano piccoli erano piccoli era addirittura il sole non penetrava la luce del sole era fittissima era fittissima a un certo punto aveva un affare come questo puntato per terra un proiettile grosso così alto così un po' più di diametro sai uno si emoziona poi conoscendo allora ho fatto tutto agitato gli ho spiegato mi raccomando e ho trovato un qualcuno che potesse avvisare i carabinieri gli ho spiegato un po' manco me capiva perché loro si chiedono chi diamo in giro ma non è vero a me mi piaceva imitare istintivamente chiedu chiedu loro pensavo che io volessi via in giro invece no era solo ti piaceva parare il dialetto calabrese e insomma feci un'operazione che la gente ha apprezzato molto questa mia prontezza di intervento e un'altra pure quando già c'era Piperno che faceva assopia tutto i casi lungo il mare allora io mi ricordo allora io dicevo in macchina i calabresi ancora lì dei miei nipoti calabresi ribellatevi era talmente bello il paesaggio io mi ricordo delle spiagge favolose io passavo davanti a Cedraro se hai visto un ragazzino nudo come in verme c'era avuto tre anni correva sulla spiaggia che era deserta e sullo sfondo sto mare che era la tavola io abituato con ostia dico ma tu stai questo è in paradiso ma lo stretto te lo ricordi? lo stretto di Messina che di notte vedevi Messina illuminata tutte le notte è vero è vero poi Scilla e Caride era uno spettacolo ne parlavamo proprio pensa che una volta non ciò te l'ho già detto poi dopo ho saputo che musica era per capire a Scilla e te capitai in un momento in un pomeriggio stavamo mi ricordo una specie di punticello insomma c'era la luna e e sentivo una musica e poi dopo ho capito che era la canzone in due una canzone insomma una cosa magica vedere sto spettacolo il mare la luna e sta musica mi rimase impresso guarda una cosa meravigliosa guarda secondo me è una delle coste più belle io a Sardegna conosco solo Alghero indubbiamente la costa sai come si chiama quella costa la costa viola è la costa viola quella che da Reggio Calabria va su verso Scilla Scilla e Caritti guarda è una cosa magica poi all'epoca non c'era niente era proprio io una volta muovo la notatina a Gallico che era la seconda vicino Catona conosco perfettamente una spiaggetta così quando vado sulla riva per non sentire freddo io non ero capace ad entrare con i piedi perché mi veniva freddo e faceva la tuffata che era una stafilata però poi ti scaldavi certo mi ricordo che sentivo belati come che erano le pecore che brucavano sulla riva sì sì io rimasi incantato perché per me era una scoperta venendo da Roma ovviamente ti ho detto c'è una divisione netta tra le abitudini e la scoperta del mondo sto parlando sempre agli anni cinquanta a me per esempio viene in mente è tutto concentrato lì perché dopo diventa l'abitudine io mi ricordo sempre negli anni cinquanta che noi abitando a Roma il mare di Roma era osso perché i soldi erano pochi ma le occasioni erano tante oggi ci sono delle esigenze senza le quali ieri no perché l'ospitalità insomma ma ti accontentavi pure perché venivi da una guerra quindi stavo dicendo poi dipende pure dall'edattabilità certo pretendere cose del gusto te lo ricordi tu per esempio quando noi andavamo al mare a Ostia a Ostia e naturalmente andavamo andavamo in treno e andavamo la mattina alla piramide e c'erano le biglietterie c'erano questi sportelli sportelli che stavano all'esterno della stazione e c'erano delle file che non finirono mai perché tutti quanti al primo posto ma poi si andava tutti in treno e non solo si rischiava che quando arrivavi a Ostia magari andavi lì e non trovavi manca la cabina perché tutta Roma ci si riversava e via il treno dovevi infilare dai finestrini ti buttavano dentro i ragazzini per cui è questo particolare che per prendere il treno per fare il biglietto si faceva sulla piazza praticamente c'erano le biglietterie sulla piazza tutti in fila lì a fare il biglietto e io mi ricordo quando andavamo a Ostia con gli amici già eravamo verso la fine anni 50 che andavamo a Ostia con gli amici ci organizzavamo in modo tale che uno massimo in due perché andavamo sempre 8-10 uno massimo in due partivamo molto presto per metterci a punto di trovare poi la cabina o stabilimento e noi solitamente andavamo alla Nuova Pineta perché scendevamo alla stazione a Castelfusano venivamo dritti dritti Pinetina Nuova Pineta e Vecchia Pineta solo che la Vecchia Pineta era uno stabilimento d'elite dove ci andavano attori personaggi VIP che oggi si chiamerebbero VIP e noi andavamo alla Nuova Pineta e noi andavamo sempre la mattina presto in due poi dopo arrivavano gli altri noi già avevamo preso il casotto che si chiamavano casotti allora la cabina era in casotto mi è rimasto appresso una volta ero ragazzino io che però andavo con il mio zio Renato mia zella Giuliana mia cugina Giuliana al Battistini Battistini è il primo stabilimento a sinistra dal pontile e successe un episodio bruttissimo cioè mentre noi stavamo seduti sotto l'ombrellone praticamente che è successo un bambino come potevo essere io che aveva fatto come si faceva solitamente aveva scavato una buca in riva al mare si faceva la buca la famosa buca solo questa ha scavato sta bella buca era di mattina abbastanza forse verso le nove e me nove e me quindi era abbastanza presto aveva scavato sta buca abbastanza profonda e poi c'era messo dentro e c'era coperto diciamo stava dentro fino qua se non che questo poi me l'hanno spiegato dopo perché io ero ragazzino evidentemente in riva al mare sotto la sabbia è bagnata praticamente gli si è aperta come le sabbie mobili bravo e questo praticamente questo bambino è andato sotto fortuna ha voluto che se ne sono accorti subito perché era andato giù circa un metro e mezzo mica poco e bagnini che poi nessuno poteva usare le pale perché rischiava di dare una palata in testa tutti a scavare con le mani a scavare con le mani e ancora lo vedo questo bambino che ci avrà avuto forse cinque anni sei anni che quando lo trovavano che era tutto nero sporco di sabbia era viola in viso stava con i denti serrati così ancora la vedo la fotografia lo tirarono fuori nel frattempo diciamo che si avevano allarmato l'ambulanza era arrivata un'ambulanza dal pronto soccorso di ossia non ho mai saputo se sto ragazzino penso sì perché non si era più parlato noi ci andavamo tutti i giorni quindi se era morto avrebbero probabilmente si è salvato speriamo però ecco infatti ai miei quando facendo le bughe arrivo al mare io ho sempre detto no non ve ci mettete mai dentro fate la buchetta fateci entrare all'acqua a giocare ma non entrate mai dentro perché può cedere cedere perché c'è l'acqua infatti hai visto quando fai le bughe arrivo al mare trovi l'acqua scavando scavando arrivi all'acqua però i stabilimenti erano controllati infatti c'erano i bagnini come no c'erano i bagnini e i cordi ti ricordi che c'erano le corde chi non sapeva notare se faceva il bagno c'erano le corde uno a momento mi s'affoca con le corde ho chiappato così perché la corde a un certo punto il mare era mosso è andata sotto certo non riusciva e sta a affogare e c'erano e io mi ricordo che andammo al mare ma forse già sono anni 60 penso per cui la gioventud allora ma che c'era il tempo di andare al mare la domenica era tutta una paura una fame magari i fiumaroli ecco i fiumaroli ma te lo ricordi il ciriola sotto Ponte Sant'Angelo il barcone del ciriola ma lui aveva recintato per cui non c'era pericolo insomma perché era tutto recintato noi ci andavamo lì a far bagno dal ciriola se sta accorgendo che andai al fiume era come se piazzi la droga perché hanno l'etterizia capito? sì sì 9 su 10 se beccano l'etterizia che poi sarebbe la beh il problema è figo è una specie di patina cioè perché evidentemente l'acqua era già inquinata volevo aprire una piccola parentesi tornando a via del commercio che mi è venuto in mente adesso ti ricordi c'era il mercatino il mercatino tutti i giorni quando rimettevano venivano con le cariole toglievano i banchi e li portavano dentro certi magazzini che c'erano in via Cerbi quella zona là e passava l'auto noi chiamavamo l'autobotte della diciamo del comune che con gli zampilli laterali e poi lasciava quell'utore perché c'era disinfettante forse una creolina non so che c'era e lavava più o meno come adesso insomma che se passi devi camminare con la maschera perché c'era ha detto io c'era una puzza e c'era eppure il primo giorno una volta sola l'ho vista il primo giorno da Araggi che hai visto da Araggi? una volta sola l'autocistema? come no mi ricordo ma qui a Via del Commercio a Via del Commercio e c'era Araggi sì allora Araggi adesso è stata la prima ha detto meno male invece una volta sola per sbaglio infatti io ho pure spubblicato dico finalmente hanno affia a botta comunque ecco per dire una volta sola come è peggiorata la situazione si sono pentiti è un particolare forse non è da sottovalutare che all'epoca non si pagava l'annestezza urbana oggi paghiamo in media intorno a quasi i 300 euro l'anno tutti noi i commercianti ne pagano di due a 600 mille cose paurose pagando però il sistema è quello che è invece allora non si pagava addirittura forse non so il mondezzaio veniva su per i piani e noi si metteva la mattina presso si metteva il secchio fuori questo porello con sto sacco che era una cosa veramente allucinante votava il secchio dentro al sacco e scendeva piano piano mi è rimasto presso un piccolo particolare ma forse no lì però già siamo negli anni 60 poi ve lo dirò perché quello rientra negli anni 60 adda Grazie a tutti.